trovato vuoto. Lui risorto non è ancora apparso, non l'hanno ancora incontrato, è lo spaesamento e per certi versi la paura che pervade l'anima di questi due uomini che si lanciano in questa corsa, però le luci dorate di questa alba e gli occhi spalancati di Pietro indimenticabili ci fanno in un certo senso già presagire che dopo questa corsa ci sarà un incontro meraviglioso che sarà la grande svolta nella vita degli apostoli e per la fede di tutti i credenti. Burdan è un uomo che si colloca sulla scena.